Oggi pancake keto proteici senza farina. In un contenitore versiamo l'albume, dolcifichiamo, aromatizziamo a piacere, montiamo a neve e ben soda. In una ciotola versiamo lo yogurt greco, uniamo gli albumi e mescoliamo delicatamente. Ci spostiamo sui fornelli, ungiamo un padellino con dell'olio di cocco e andiamo a formare dei mucchietti con il nostro impasto. Se vogliamo al centro mettiamo un cubetto di cioccolato fondente e ricopriamo con altro impasto. Chiudiamo col coperchio e lasciamo cuocere. Poi quando sarà il momento giriamo i nostri pancake e finiamo la cottura. Adesso li taggiamo in un piatto, guarniamo con i nostri condimenti preferiti e buon appetito! Ciao!